Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su Minecraft Ita settima stagione, come al solito ragazzoli? Allora, 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 il visto video di ieri vi è piaciuto un botto, sono stato felice, big up, tanta tanta roba, ma oggi dobbiamo andare a lavorare prima di poter fare ovviamente la farm di Enderman, dobbiamo andare a fare la hub e sistemarci, allontanarci molto ci servirà l'eliter ovviamente per questo progetto, ci serviranno tante tante belle cose e ci serviranno tanti tanti blocchi che io attualmente non ho o utilizziamo la clay, why not? In the Audi too fast for polizia, clay rossa nell'end, verde, brown, ma io dico che un po' di clay rossa può sicuramente servire tac, ci prendiamo un po' questo, o un'orange terracotta, vabbè, insomma, portiamo un po' di terracotta, ci portiamo, certo è poca roba, un po' di slab magari perché lo dobbiamo fare non altissimo, ci portiamo dietro un po' di legno perché effettivamente il legno ci può servire per una craft o qualsiasi cosa ci portiamo dietro delle chest, un paio di crafting, delle... sì, questa roba qua, delle furnace, dell'acqua, ovviamente ci servirà a portare dell'acqua non penso io necessiti di tanta altra roba in verità e quindi per ora possiamo andare nel... nel land mi utilizzerò il sistema dei razzetti per andare perché attualmente ancora non ho avuto modo di creare un portale effettivamente potremmo farlo tranquillamente in questo episodio e quindi sì ragazzuoli andiamo e iniziamo a creare questa zona dell'end eccoci qua arrivati vabbè, cazzo prendo diverse botte perché riesce andando così però nulla di particolarmente grave qui c'è il sistema per duplicare i dragon egg che attualmente è fermo e io da sotto posso tranquillamente entrare il power tool eccolo qua qui abbiamo questa roba ok, va bene, ci siamo a questo punto che cosa possiamo tranquillamente fare così, così e iniziare con la terracotta rouge rouge ah, fare una cosina del genere e allontanarci di tanti tanti blocchi ovviamente starò così e piazzerò mi voglio allontanare perché più ci allontaniamo più possibilità di far spawnare gentaglia ci abbiamo non faremo quelle farm in cui devi salire, devi scendere, devi fare, non devi fare che sono noiosissime è una farm veramente molto intelligente fantastica, produce tanto a che livello siamo qui F3 AR 40 benissimo 49 livello non ci dobbiamo allontanare non dobbiamo fare niente di niente dobbiamo soltanto allontanare circa 100 200 blocchi facciamo quindi ci butto l'A3 stack ad allontanamento fatto questo mi sono portato anche l'Elytra perché se cado almeno riesco a risalire ci facciamo questo campo base e... beh, GG ok ragazzuoli abbiamo sistemato questa parte abbiamo finito mi sono allontanato di tutti i blocchi adesso l'idea sarebbe quella di fare un change di roba del tipo manoscritto su TS va bene uguale tac, così fare un change di materiali per fare proprio per dire ok guarda sei arrivato alla fine tac, bella così e fai quindi la tua basetta tutta bella tutta figa poi a parte dovremmo fare anche una farm di legno ma avete detto perché sì, effettivamente ci serve di quelle guiderose no, niente guiderose perché poi ho paura di far casino e tutto il resto a questo punto facciamo cosa del genere tac, tac no, questo qui e questo lo mettiamo di qua uguale a e con la clay gialla possiamo fare una roba del genere tac, tac tac, tac, tac perfetto e qui entri nella vera e propria base che avrà come pavimento l'orange clay facciamo tutto clay o so abbiamo la clay ragazzi usiamo carina poi quella clay mi piace simpatica ok clay tac, tac, tac la faremo faremo tipo una casa larga non so quanto però abbastanza insomma ci mettiamo facciamo una bella piattaformina in modo tale da poter stare tranquilli alta due e mezzo così gli enderman coerch che entrano tac, tac sì sì però una casa voglio fare alta due e mezzo why not esatto mi metto qui a lavorarci faccio un attimo la base ovviamente devo fare soltanto la parte estet cioè la parte fuori però potrebbe essere la parte in basso cioè il senso adesso facciamo questa roba qua poi ci metto sopra faccio il tetto con gli slab poi le rifiniture intorno vedremo ok ragazzoli questo è quanto non ho potuto fare finire perché effettivamente mi mancare la roba però piano piano ci siamo allora mettere iniziere a mettere un paio di cestoline attaccati al muro le mettiamo facciamo tipo una sorta di magazzini ma tanto che ci devo mettere qua niente praticamente facciamo due cest così giusto per ci buttiamo una crafting un paio di crafting da quest'altra parte una crafting table che possiamo tranquillamente mettere qui in mezzo non serve molto effettivamente l'acqua si ci serviranno ah questo no questo lo devo prendere uno due tre quattro cinque questa è una cosa importante che mi devo portare dietro mi devo ricordare tac devo farne eh no mi servono di più cinque sei sette otto ne ho persi un paio l'ottavo sta di qua tipo ce n'è uno da ste parti se riesco a prenderlo vero up nove eccolo qua preso la fonte d'acqua infinita perché può sempre far comodo fidatevi che qui sempre in casino allora dato che qui ci saranno le mura io posso fare una cosa del genere tac e sistemarmene una qua e una qui in modo tale che si per ora non ho la fonte d'acqua infinita però appena chiudo avrò anche quella poi abbiamo un appiglio per l'acqua poi si leverà ok bene qui ci facciamo le scale che vanno di sopra al effettivo piano di sopra ecco per le scale dobbiamo stare attenti perché ci potrebbe essere il problema dei tre blocchi però se ci sono le scale forse gli enderman non si teletrasportano ok torniamo a casa mi creo anche il portale del del nether a sto punto per fare prima e collegato sopra la bedrock quindi facciamo tutte queste belle cose e qui dobbiamo sistemare mettere a due blocchi anche questo perché se no sai la gente che mi spawna ok ragazzoli ho pensato bene di creare anche il portale vediamo un po' le coordinate f3 siamo a ecco me le devo segnare t meno 537 40 40 arto sto posto meno 1427 adesso le vado a dividere per 8 e mi vado a poi vado nel nether le sistemo creo il portale verso che è verso questa direzione è est slash ovest perfetto ok ragazzoli adesso abbiamo creato il portale a coordinate divise tac 68 128 179 però ho dovuto rompere la bedrock ci ho messo un pochino per il semplice fatto che dobbiamo creare il portale il primo pezzo di portale deve stare qua in modo tale che minecraft non sfasa e mi riporta direttamente il phasing ovviamente est ovest e quindi dovremo spawnare se ho fatto tutti i conti bene qua ok perfetto ci siamo riusciti a questo punto dobbiamo ritornare di sopra per poter spawnare finalmente sempre sopra esatto vedete abbiamo fatto tutto sto coso per spawnare sempre qua per fare questo collegamento eccezionale vedete abbiamo tutto qua è fighissimo è una cosa meravigliosa oddio che figata qui vorrebbe venire una città vi giuro con mille collegamenti fatta tipo stra bene stra potente ottimo perfetto anche questo ce l'abbiamo c'era una cassa qui in cui sono riuscito a trovare tutta sta roba figa un sacco perché beh cavolo riusciamo a fare davvero tanta roba quindi torniamoci nel land che figata sto mondo che sta avvenendo ragazzi vi giuro cioè è veramente molto high tech è veramente veramente figo ok ragazzoli ecco fatto qui ci sono sempre gli enderman che ce l'hanno come qui è quasi finito il tutto beh praticamente è finita sta zona ho già ottenuto un enderpearl soltanto ammazzato un sacco di enderman un enderpearl fate un po' vobbis jepp 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 qui facciamo una tettoietta uguale stessa identica cosa mica per niente perché poi se mi stanno gli enderman qua non vorrei evitare a questo punto possiamo tranquillamente ragazzi ho un video per domani che è fotonico vi giuro da non perdere assolutamente insieme a mister bisolo tac ok va bene anche questa è fatta poi magari qualche decorazioncina all'entrata ce la possiamo anche fare tipo cobblestone wall così giusto per fare un attimo il figo ma niente di particolarmente grave eccessivo ok qua sopra lo li voglio mettere no brutto ok vabbè no neanche uno a questo punto che ce lo avete a fare due si ok va bene carino le torce non sembrano essere ce ne bisogno a questo punto possiamo pensare addirittura di fare la di preparare la farm esatto ragazzuoli possiamo preparare già la farm di enderman facendo un buco qua possiamo tranquillamente andare a preparare l'enderman farm allora ragazzuoli dato che voglio sistemare anche fare la farm ho pensato bene di fare tante cose off camera vi faccio vedere tipo mettere tutta l'acqua qua ho messo queste cose qua ho fatto tutto il piano di sopra e ho fatto anche tutta la parte sopra c'è un ender pearl qua sopra ancora esatto e ho fatto tutta la parte di fine casa però non posso farvela vedere effettivamente da dietro al massimo poi ho fatto questa zona qua e qui ci andrà la farm esatto questa è la casa più o meno creato adesso dobbiamo costruire in timelapse la farm la metto là sotto si parte adesso ci facciamo anche un bel silosone ce la facciamo abbastanza alta così in modo tale di arrivare a una piattaforma lì questo lo chiuderemo in cui c'è il silos quindi siamo tranquilli qui dentro a casa non ci contrarà nessuno ci abbiamo il silos ci saranno un sacco di ender pearl e quindi gg tanta roba che non mi rassalto che dirvi via col timelapse e quindi ci saranno un sacco e quindi allora ragazzuoli finito il tutto ci è venuto a trovare bisolo io ho finito il cibo ragazzi è stata un'avventura finita roba fortuna ma è venuto a dare la mano bisolo per tutto perché davvero non ce l'avrei fatta ciao bis e detto questo ragazzuoli la farm è completa guardate un po' quanti enderman ci sono già abbiamo messo dei carpet e tutto il resto lì ci sono tutti gli enderman la stiamo finestra cibo finito quindi ragazzuoli penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione di lasciare mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook domani ci sarà anche bisolo quel ragazzo online insieme a noi a fare il video iscrivetevi al suo canale e niente mi raccomando un bel mi piace pollicione in su 3000 mi piace ci proviamo diciamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti